Da oggi il sindaco di Giulianova fa parte di un partito e insieme a tutti i guardi del partito si valuterà che cosa è più giusto per la nostra città. Non parliamo di poltrono. Ivan Costantini è salito sul carroccio. Nelle scorse settimane alcuni rumors lo volevano vicino a Fratelli d'Italia, ma le voci sono state smentite ufficialmente questa mattina con il passaggio del sindaco di Giulianova alla Lega. L'onorevole Luigi Deramo, che ha appuntato l'Alberto D'Aggiussano sul petto del primo cittadino, commenta soddisfatto. Credo che una forza politica importante come la Lega, che è prima forza politica in Italia, in regioni Abruzzo e anche a Giulianova, e in particolar modo in questo momento così particolarmente difficile a causa dell'emergenza sanitaria, occupazionale ed economica, un partito responsabile deve governare e deve compartecipare a governare bene una città. Costantini è stato membro di Forza Italia fino al 2019, anno in cui lasciò il partito di Berlusconi per candidarsi a sindaco con sei liste civiche. Vinse al ballottaggio, dopo un lungo testa a testa, proprio contro il candidato leghista, Pietro Tribuiani, in una campagna elettorale che si consumò negli attacchi reciproci tra il polo civico e i partiti tradizionali, primo fra tutti quello di Matteo Salvini. «Ho sempre avuto il cuore da questo lato del campo», ha detto il sindaco in conferenza stampa. Tribuiani in questi giorni ha parlato di opportunismo e inganno, attaccando duramente la Lega Abruzzo, capitanata da Deramo. «La Lega non espelle nessuno, ripeto, la posizione della Lega è quella in questo momento molto chiara, esprimiamo il sindaco, siamo in maggioranza, chi non condivide questa scelta può fare le scelte che ritiene più opportune». Tribuiani si è però detto disposto a sostenere Costantini se verranno accolte alcune richieste, prima tra tutte la liquidazione della società in house del comune, la Giulianova Patrimonio. Ma dal sindaco è giunto un secco no. «Beh, questo io ho qualche perplessità perché 40 famiglie a casa non le mando». Intanto Giulianova è stata blindata con la chiamata a raccolta della celere, nei giorni scorsi striscioni di contestazione in città e questa mattina la manifestazione. «Ivan Costantini ha tradito la città intera, Ivan Costantini ha vinto per una manciata di voti, ha avuto anche voti da parte della sinistra, appunto per non far andare la Lega a governare questa città. Si è rivelato alla fine un burattino, un falso, perché è così che lo possiamo chiamare. Lui ha fatto tutta una propaganda contro la Lega nella sua campagna elettorale e alla fine è passato con il nemico. Gli avranno promesso qualcosa, ma quello che gli hanno promesso noi non lo possiamo sapere. Anche perché da quando l'uscita al comune, nella maggior parte degli enti pubblici comunali a lavorare ci ha messo i suoi amici e questo è un dato di fatto». «Sono gli anarchici», semplicizza il primo cittadino. Come è successo a Roma, anche a Giulianova, le contrapposizioni politiche espresse tramite il voto devono essere pacificate. «Mi dispiace in un momento particolare dove c'è una pacificazione della politica a livello nazionale, dove tutti i partiti sono convogliati per dare delle risposte in un momento così importante. Mi dispiace dover vedere e constatare che ci sono delle forze, soprattutto anarchiche, che in questo momento contestano chi sta cercando di rafforzare la posizione della mia città nei confronti di un palcoscenico molto più ampio».